Buongiorno e ben ritrovati. Oggi parleremo di investimenti e finanziamenti rivolti ai giovani e precisamente della misura di Invitalia denominata Resto al Sud. Tale misura di agevolazione finanziaria riguarda i giovani tra i 18 e i 35 anni, per la precisione il 36esimo anno non compiuto, residenti nelle regioni dell'obiettivo 1, quindi parliamo di Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le attività devono essere chiaramente individuate e effettuate all'interno di tali regioni, i giovani non devono essere titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quantomeno possono esserlo, ma devono assolutamente cessarlo nel caso di approvazione della domanda e non devono essere stati beneficiari di misure di agevolazione nei tre anni precedenti all'inizio di tale attività. Quali sono i progetti agevolabili? I progetti si rivolgono a tutti i settori di attività con due esclusioni principali, quella del commercio e delle attività professionali. Quali tipo di origini di investimenti sono agevolati? L'effettuazione di lavori di ristrutturazione di immobili nel limite del 30% del totale dell'investimento, l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica e il finanziamento attresi di spese di avvio di attività nel limite del 20% del totale degli investimenti. Di che contributi parliamo? Il contributo del 35% a fondo perduto del totale del progetto di investimento sommato ad un 65% di finanziamento a tasso zero e che vuol dire che l'investimento viene coperto nella sua totalità al 100%. Il finanziamento bancario deve essere erogato da parte di una delle banche che hanno sottoscritto la convenzione con Invitalia e deve essere ottenuta, la delibera deve essere precedente all'ottenimento del finanziamento da parte di Invitalia. Le domande si possono presentare immediatamente attraverso il sito di Invitalia attraverso una procedura telematica.